Ed è proprio in uno di questi vagoni dismessi che si è consumata la violenza. Martedì sera una ragazza 17enne appunto stava tornando a casa e ha visto l'uomo a terra. Questo iracheno di 26 anni l'ha pregata di accompagnarlo verso la stazione e poi l'ha violentata in uno dei bagni di questi vagoni. Io mi ricordo quando lavoravo qua per parecchi anni non si senteva mai niente perché c'era la presenza anche del personale. Anche perché questa zona qua è molto frequentata. Da immigrati. Guardi io ho dormito un periodo in dormitorio qui. Credo che non è che dopo mi sento razzista. Però ho visto il modo di vivere loro, il modo di comportarsi. Vengono qui in Italia. Io ho lavorato tanti anni in Germania, 10 anni ho lavorato. Però ho sempre avuto rispetto per il paese, per le tradizioni. Invece loro non portano rispetto, loro vengono qui e pretendono. La minore dopo aver soccorso il richiedente asilo 26enne e averlo accompagnato vicino ai vagoni fermi viene convinta ad entrare nel bagno del mezzo e poi lì, dopo averla fatta bere picchiata, consuma la sua violenza. La cosa che io non tolero è il fatto che noi facciamo accoglienza, perché dopo il problema è quello. Noi facciamo accoglienza ma non sappiamo dove metterli. E questi girano a vuoto. Comunque sì, una ragazza giovane ci può stare anche a non averla a testa per certi pensieri, per cui è normale che succedano queste cose se non c'è controllo. C'è una vuoto per le strade, tranquilla. Cioè tu non hai possibilità di... non sei mai tranquillo. Che obiettivamente penso che anche lei si è resa conto di queste cose. Sinceramente la situazione non è tranquilla, perché la sicurezza delle persone, che sia una ragazza di 17 anni o chi vuole, lei, è un po' dura. La giovane, dopo aver subito la violenza, racconta al personale sanitario del burlo, si è allontanata dalla zona prendendo un autobus che l'ha portata fino alla zona di San Giacomo, dove poi è stata soccorsa da una volante degli agenti della polizia che l'hanno trovata riversa a terra con numerose ferite e diversi morsi. Io non sono un razzista, però qui in Italia le cose stanno andando a rotoli.